ariete siete pronti a lasciare che una persona a voi vicina viva un'avventura a cui voi non parteciperete emotivamente però continuerete ad essere al suo fianco toro fate in modo di occuparvi di ogni cosa nel giusto ordine al momento giusto in quella che sarà una delle giornate più frenetiche dell'anno gemelli giornata all'insegna dei colpi di scena siate pronti a dover modificare radicalmente i vostri programmi cancro giornata ideale per fare una visita a sorpresa a una persona che ha perso la speranza di vedervi sarà un grande piacere per entrambi leone fareste bene ad accantonare temporaneamente le vostre attività di routine per seguire con attenzione gli sviluppi di una certa vicenda familiare vergine potreste venire a conoscenza di informazioni riservate che fanno gola a molti dovrete essere capaci di mantenere il segreto bilancia a furia di provare e riprovare riuscirete a guadagnare sicurezza in voi stessi ma a un certo punto dovrete passare all'azione non potete provare all'infinito scorpione non ci sarà niente di male nel concedersi qualche stravizio ma attenzione a non esagerare sagittario vi sentite oppressi da certi sentimenti dolorosi che non riuscite a tirar fuori avrete un'opportunità per aprirvi con qualcuno sarà un gran solieme capricorno dovrete occuparvi di molte più cose del previsto ma riuscirete a fare tutto se stabilirete delle priorità e gestirete bene il vostro tempo acquario siete soli ad affrontare una certa impresa questo non vuol dire che non possiate prendere ispirazione dai metodi di qualcun altro per portarla a termine pesci l'approccio con cui in genere affrontate certe situazioni potrebbe non funzionare col contributo di tutti potreste trovare una nuova geniale strategia